Il Grest è vivere assieme un periodo estivo, socializzare, divertirsi, gioire, ma nello stesso tempo tutto questo fatto con un'ottima trasmissione dei valori. Grazie a tutti i volontari che durante l'anno tengono aperto l'oratorio, soprattutto il sabato, ma poi anche ogni giorno per il doposcuola gratuito. E' un'occasione buona il Grest, avranno una piccola piscina, giochi, animazione, tutto questo grazie alla fantasia pastorale.